RS Black Traction può essere utilizzato quando la plastica fa questa patina bianca per rinnovarla semplicemente applicandolo con una spugna leggermente abrasiva come questa per lavare i piatti. Permette di ammorbidire gli oli fuoriusciti dalla plastica, di asportarli, di arricchirla allo stesso tempo e successivamente di lasciarla protetta. Dopo l'applicazione si passa con un panno per togliere l'eventuale prodotto in eccesso e lo sporco che è fuoriuscito. Subito idrorepellente con una lunga durata di tempo rispetto a siliconi e vaselline. RS è un prodotto innovativo, brevetto italiano, prodotto in Italia in esclusiva da Black Traction. Lo puoi acquistare sul sito Black Traction e ricevere comodamente a casa oppure guardare nella pagina collaborazioni del sito se c'è un rivenditore vicino a te. Non lo trovi su piattaforme come Amazon.